Nome. Enrica. Maurizio. Cognome. Guzzinati. Pepe Vendemiati. Quanti anni hai? 53. E domanda di riserva? Segno zodiacale. Acquario. Vergine. Da dove vieni? Budrio, Bologna. Corbola, provincia di Rovigo. Cosa fai nella vita? Musicista. Nella vita provo a fare la cantante? Cosa ami di più del tuo lavoro? Lo strumento. Tutto, tutto, dall'inizio alla fine. Cosa odi di più del tuo lavoro? La presunzione degli incompetenti. Preparami in fretta, alzarsi prestino a volte al mattino, però mi piace tutto. Se non avessi fatto musica, cosa avresti fatto? Ricercatore. Forse l'avvocato. Enrica presenta Maurizio. Maurizio è un bravo ragazzo, dai. Tutto sommato un bravo ragazzo, un bravissimo musicista e una brava persona. Maurizio presenta Enrica. Domanda di riserva. Come vi siete conosciuti? Tanti anni fa lui cercava una cantante e io sono andata con lui. Per caso. Cos'è per te la musica? La musica è passione. Comunicazione. Una canzone famosa che avresti voluto cantare tu? A me piace tanto Loretta Goggi e quindi Maledetta Primavera. Feeling. Sai ballare? Sì. No. Cosa ti piace dell'altro? La sua onestà. Da ricomporre. Cosa non ti piace dell'altro? Non mi piace perché mi sgrida sempre. Il disordine. C'è mai stato qualcosa tra voi? No. Non ricordo. Canta la tua canzone preferita? Che fretta c'era, Maledetta Primavera. Non sono un cantante, comunque è feeling. Il tuo colore preferito? Il rosso. Azzurro, quello che è dietro di me. Se fossi un animale, che animale saresti? Un gatto. Miau. Chi è il più egocentrico? Lui. Lei. Chi è il più disordinato? Io. Chi è il più rompiballi? Sempre lei. Eh sì, lui. Datevi un voto per simpatia. Dodici. Sette. Chi paga la cena? Sempre lui. Secondo voi? Un tuo pregio e un tuo difetto? Il mio pregio è che sono secondo me paziente, paziente, simpatica, vero maestro? E un difetto è che sono un po' arrivo in ritardo. Pregio, puntualità assolutamente, difetto intransigente. Un suo pregio e un suo difetto? Un difetto è che è troppo pignolo il maestro, troppo, troppo preciso. E invece un pregio è che è troppo preciso. Un suo pregio ruffiana. Un suo difetto è sempre ritardo. La cosa più pazza fatta insieme? La roba più pazza che abbiamo fatto insieme? Maestro, non mi ricordo, dimmelo tu. Lavoro discografico. Come ti vedi tra vent'anni? Beh, sicuramente io sarò la sua badante. Non lo so. Ti piace lo sport? Insomma, un po' pigra. Non troppo. Qual è il tuo piatto preferito? Va tutto, tutto. Vero? La pizza. Il tuo cantante preferito? Omar Lambertini. Facciamo sossofonista preferito. Ce ne sono tanti. Nel nostro ambiente è assolutamente fiò. Un cantante che non sopporti? Omar Lambertini. Ce ne sono tanti. Vino bianco o rosso? Vino rosso, sempre rosso. Rosso, tassativamente. Ti sei mai ubriacato? Sì. Eh, hai voglia. Sì. Cosa deve fare un uomo per conquistarti? Posso dirtelo domani? Cosa deve fare una donna per conquistarti? Usare la sua trasgressione. Hai paura di invecchiare? No. No, fa parte della vita. Hai mai fatto sesso con una persona conosciuta la sera stessa? Questa mi manca, me la segno. Certo. Cosa guardi prima in un uomo? Beh, diciamo... Dai, siamo carine. Lo sguardo? Cosa guardi prima in una donna? Le caviglie. Il tuo sogno nel cassetto? Ne avrai tanti. Stare sereni. Invita i tuoi fans e amici a seguirti nelle tue serate come farebbe Maurizio Costanzo. Non sono Costanzo, ma sono Maurizio. Invita i tuoi amici e fans a seguirti nelle tue serate come farebbe Barbara D'Urso. Ciao ragazzi, vi aspetto su questa rete. Mi raccomando, con il cuore, il cuore è vostro e dei miei figli. Come hai conosciuto la Suonami? L'ho conosciuta perché già mi venivano richiesti dei brani nelle nostre serate e quindi abbiamo intrapreso un percorso editoriale insieme. La Suonami l'ho conosciuta attraverso il maestro Maurizio Guzzinatti, che lo ringrazierò sempre. Parla del tuo lavoro discografico. Una bomba, un bellissimo brano molto emozionante che arriva in fretta. Il nostro lavoro nuovo discografico è una bellissima canzone scritta da Omar Lambertini e ha il primo suono, la prima nota che abbiamo sentito. Siamo stati felicissimi perché è bellissima, bellissima. Il titolo del tuo primo singolo in uscita? Senza cuore. Senza cuore. Fai un saluto al tuo pubblico. Un presto rivederci. Ciao ragazzi, mi raccomando, a presto eh! Ciao ragazzi, mi raccomando, a presto eh!